Buonasera, mi chiamo Cristina Kau e sono una collaboratrice del progetto del Laboratorio Civico. Ricollegandomi al discorso che ha fatto Alessandro, volevo giusto aprire una parentesi su quello che potesse essere il senso di cittadinanza e quindi anche il senso ormai civitas o comunque il senso civico che ogni cittadino e ragazzo dovrebbe avere e che con il tempo si è andato a perdere e quindi ecco quello che principalmente noi vorremmo fare è proprio riaprire anche gli animi di tutti i cittadini e far sì che si possa ricreare un legame sorretto principalmente anche dall'amore per la risorsa che si ha e quindi un legame con il territorio che possa principalmente rendere comunque un benessere o comunque soddisfatto il cittadino e questo però per far sì che ciò possa come dire avvenire, si possa realizzare, è giusto anche far rinascere un amore nei confronti del territorio. In questo nostro municipio vediamo che ormai non è più possibile per un giovane ad esempio trovarsi a proprio agio, comunque trovare uno spazio dove poter creare, comunque vivere tramite un principio se vogliamo anche poi di solidarietà, comunque vivere momenti e legami con altre persone, non esistono attualmente spazi comunque dove è possibile, un esempio che mi viene banale, ultimamente sono andata a cercare per la spiaggia anche di Ostia una rete, una semplice rete per poter giocare a pallavolo e non c'era, cioè non c'erano reti, comunque non ci sono proprio luoghi che permettano la possibilità di incontrarsi alla persona, incontrarsi, conoscersi, condividere comunque anche se vogliamo le proprie personalità, le proprie storie e questo sia per giovani che per adulti che per anziani, ormai vediamo solo immobili o comunque tantissimi enti che non vengono utilizzati o che hanno una destinazione di uso che comunque non li valorizza o che a maggior ragione vediamo così tanto spazio che non viene utilizzato, che viene lì lasciato abbandonato e ciò incrementa se vogliamo anche un'inerzia mentale soprattutto tra i giovani, perché comunque vediamo persone che ugualmente in questo caso i giovani, che si riducono comunque poi o a uscire per strada o comunque a fare cose che li portano poi comunque alla strada, a facezia se vogliamo di strada e che non si parla poi di giocare a campana per strada ma attività di altro tipo si fanno o comunque anche solo l'incremento che c'è a livello di attività commerciali delle slot machine su Ostia attualmente, non sono comunque quelli ad esempio luoghi dove si possono creare momenti di coesione a livello di personalità, sono anzi luoghi che portano alla solitudine di sicuro non a un piano comunque di convergenza e di dialogo e quindi ecco è urgente avere una visione che possa considerare degli spazi, semplici spazi dove è possibile creare comunque degli incontri solitari, degli incontri che possano ecco riunire un po' la popolazione neanche o stienze.